Musica Benvenuti a Tu per Tu, abbiamo ospite in questa puntata Rodolfo Borga, consigliere provinciale della Civica Trentina. La prossima settimana arriva in aula, in consiglio provinciale a Trento, la legge sulla buona scuola trentina, una legge della quale abbiamo già ampiamente parlato nelle scorse settimane perché le opposizioni tra l'altro hanno annunciato le barricate. Sarà così Borga? Io ho depositato circa 2000 emendamenti, si tratta peraltro di un'iniziativa annunciata che è collegata principalmente alla forzatura che nel maggio scorso la maggioranza ha voluto fare approvando una mozione in materia di omofobia e ritirando il loro disegno di legge. Io ho già depositato un ordine del giorno che si occupa appunto dei risvolti di questa mozione nei rapporti tra istituzioni scolastiche e famiglie e quella è la prima delle questioni che personalmente noi poniamo sul tappeto e sulla quale con tutta franchezza non siamo disponibili a discutere. C'è poi il merito della questione del disegno di legge, anche lì noi abbiamo una serie di proposte e siamo peraltro pronti a discuterne, non è nostra intenzione fare opposizione così in un'ostruzionistica solo per non far approvare il disegno di legge. Una volta superato e credo che lo potremo superare lo scoglio di quella questione appunto a cui ho fatto cenno prima, siamo disponibili a ragionare sul merito delle questioni tenendo conto ovviamente che non possiamo pretendere di farla noi la legge. Però rilevo una cosa, il Presidente Rossi che è assessore anche competente in materia di istruzione ha fatto viaggiare questo DDL molto velocemente in commissione, non ha mai ritenuto di dover coinvolgere le minoranze per un discorso così di carattere generale da affrontare in via preliminare rispetto all'aula, è evidente che quella discussione che non c'è potuta essere prima ci sarà a partire dalla prossima settimana in aula. Lei faceva accenno appunto a quella famosa mozione, come superare, lei ha detto bisogna superare quell'ostacolo, come si può superarlo? Io ho presentato un ordine del giorno al DDL sulla scuola, quale buona sostanza prevede che le famiglie siano adeguatamente informate, che vuol dire su tutte quelle iniziative che riguardano questi temi, l'educazione alla sessualità, l'affettività, comunque svolte anche per il tramite dell'azienda sanitaria. Le famiglie devono essere informate quindi individualmente una per una e non con riferimenti generici in qualche documento di istituto e poi deve essere riconosciuta alle famiglie la possibilità di non far frequentare ai propri figli, ovviamente minori, quelle iniziative che non si ritengono consono ai propri principi morali di riferimento. Peraltro si tratta di principi di carattere generale che trovano addirittura riscontro alla dichiarazione universale di diritto dell'uomo, dove viene riconosciuto il diritto delle famiglie all'educazione in via prioritaria rispetto allo Stato. Quindi con tutta franchezza a me non pare che ci siano problemi di particolare rilievo nell'approvare quell'ordine del giorno, una cosa è certa, o viene approvato quell'ordine del giorno, sono i nostri due mili emendamenti che restano lì. Ecco, oltre a questa cosa che ovviamente l'avete già detto tante volte non vi piace, che cos'altro c'è da modificare in questo disegno di legge secondo voi? Ma entro i limiti in cui è possibile muoversi rispetto alla legge statale, Bolzano ad esempio se ne è discostate in maniera abbastanza rilevante, a nostro avviso deve essere individuato in maniera radicalmente diversa un percorso di valutazione del merito dei docenti, che vuol dire il riconoscimento del merito di chi lavora bene, sono tanti con passione, però anche un procedimento di cratere sanzionatorio nei confronti invece di quei docenti che il loro lavoro non lo sanno, non lo vogliono fare. Questa è una richiesta tra il resto che è emersa chiaramente anche dalle consulte dei genitori ed è interessante il fatto che questa richiesta qua sia provenuta anche da molti genitori che sono al tempo stesso insegnanti. Il percorso che propone invece la giunta che è quello dell'individuazione degli ambiti con l'assegnazione a scelta del dirigente ci lascia un po' perplessi, non c'è dubbio però che la questione di fondo esista e debba essere affrontata, anche se vediamo che c'è qua anche organizzazione sindacale che in realtà la vuole affrontare soltanto a parole, invece va affrontata sicuramente nel merito. Altra questione per quanto ci riguarda poi il rapporto scuola-lavoro, soprattutto nei licei ci sono un sacco di ore che dovrebbero essere svolte così, daranno sicuramente dei problemi organizzativi in poco conto, una proposta di slittamento di un anno secondo noi ad esempio potrebbe essere opportuna. Poi ci sono le nostre posizioni, una è le perplessità che abbiamo in ordine all'utilizzo degli strumenti informatici, di specie nelle scuole con gli studenti più giovani, ci sono numerosi studi che evidenziano i rischi connessi alla didattica effettuata in questa maniera, quindi lì presenteremo un ordine del giorno per chiedere degli approfondamenti sulla base degli studi che già ci sono. Dopo la nostra posizione personale è all'insegna anche del rigore, nell'interesse dei giovani, soprattutto dei giovani che provengono da situazioni sociali più svantaggiate, non vediamo perché da solo in Italia non abbiamo gli esami di riparazione, a nostro avviso vanno reintrodotti gli esami di riparazione, il voto di condotta deve fare media e un voto di condotta negativo deve comportare anche soluzioni drastiche. Poi ci sono altre questioni che affronteremo nel corso di queste giornate che si pronunciano lunghe. Noi a questo punto invece le chiediamo un parere sui risultati dei referendum delle scorse settimane sulle fusioni, notoriamente lo sappiamo, lei è uno di quelli contrari alle fusioni, ecco il suo parere quindi sui risultati. Civica Trentina in questi due anni e mezzo è stato l'unico movimento politico che ha evidenziato sia nelle aule del Consiglio Provinciale regionale che sul territorio le criticità della riforma dal DOS. Io non sono contrario a priori, pregiudizialmente alle fusioni, sarebbe sciocco essere pregiudizialmente contrari, trovo però oltre tanto sciocco essere pregiudizialmente favorevoli. Questa seconda tornata di fusioni si è svolta con modalità tali, con una tale pressione che ha inevitabilmente comportato un po' una reazione dei territori. Non appena la propaganda o l'informazione, come si voglia dire, è stata un po' meno squilibrata a favore delle fusioni, anche io stesso ho partecipato, sono stato invitato a numerose incontri sul territorio, incontri pubblici, noi abbiamo visto che in molti comuni o le amministrazioni comunali o comunque gli elettori poi hanno detto no alla fusione. Ho visto dei toni francamente eccessivi, il fatto che a qualche fusione non sia andata a porto non costituisce un dramma, ci sono comuni che hanno secoli di storia e se hanno sopravvissuto per secoli potranno sopravvivere ancora, laddove invece la fusione è andata a porto, se è stato un processo veramente sentito e portato dal basso, porterà anche a risultati positivi. Il problema fondamentale è che si è voluto fare, di quella che sostanzialmente secondo me è una moda, il problema fondamentale del Trentino, ingannando la gente, perché i problemi del Trentino non sono sicuramente nell'avere 10 o 15 comuni in più o in meno. A questo punto una domanda, una domanda che le pone un nostro ascoltatore. Volevo sapere il suo parere sulla legge della buona scuola trentina. Ecco Borgo, ovviamente lei il suo parere sulla buona scuola trentina lo ha già dato, abbiamo dedicato gran parte di questa trasmissione, non lo so se vuole dire due parole oltre a quelle già dette al nostro ascoltatore. A me pare che emerga comunque un dato di fatto, cioè che la Giunta e il Presidente Rossi hanno deciso di recepire in buona parte quello che sono i contenuti della buona scuola di Renzi, senza fare uno sforzo per introdurre degli elementi che il nostro ordinamento autonomista ci consentiva, di novità rispetto a quella che è la normativa nazionale. Dopodiché vedremo, tutto è perfettibile, ci sono cose, ho detto prima, che non ci piacciono, altre invece che sono accettabili, insomma, tra quelle che non ci piacciono c'è anche l'obbligo che deve venire meno, credo, perché dovranno essere le famiglie e i singoli istituti a decidere quello della settimana corta, che vorrebbero introdurre in forma obbligatoria, insomma, su alcune questioni credo che anche la maggioranza e la Giunta siano disponibili a discutere. D'altra parte, penso che i lavori d'aula servano anche a questo, non soltanto per alzare e abbassare la mano a comando. Noi ringraziamo molto Rodolfo Borga, che è appunto il consigliere provinciale della Civica Trentina, che è stato nostro ospite con A Tu per Tu. Torniamo nella prossima puntata. Arrivederci. Buongiorno.